Ciao, oggi faremo un video bellissimo. Faremo un esercizio che ha fatto la Sofi, non so se l'avete visto, alla parallela, infilo i piedi, passo sopra e vado alla seduta praticamente sul stagio. Ok? Poi ritornate giù e ritorniamo su. Chi ne fa di più vince. Andiamo a fare una prova. Nicole, parti tu? Allora, amici, hai tre tentativi. Subito? Sì. Dai, 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 dai. Ok? Primo tentativo. Con calma, più lenta e porta subito i piedi dall'altra parte. Monia, ma se riesce al primo? Se riesce al primo, bisogna vedere quanti riesce a fare. Dai, 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 dai. No, mi dispiace, è l'ultimo tentativo, Michi. Dai, Michi. L'ultimo tentativo, Michi. Dai, dai, dai. Brava, brava. Brava. No. Vabbè, tentativo fallito. Giadi. Ma io non sto così con la testa, vero? Brava. Brava. Dai, Giadi. Bravissima. La stessa cosa, però, hai fermato l'ostaggio qua, lo devi portare qua. Eh sì, devi portarlo un po' più su, se no non ci riesci, eh. Secondo tentativo. Ma fa caldissimo. Ma fa caldissimo. Io penso. Brava. Sì. Dai, non rinunciare. No. Ti fa scappostato dalla parte del bambialba. Terzo tentativo. Dai. Dai. Ok. Stop. Fai, Erika. Dai, Erika. Ok. Devi portare praticamente la schiena, c'è l'ostaggio qua. Vai. Sopra il pantaloncino. Ok. Sopra il pantaloncino. Sì, che va. Sopra il pantaloncino, vai. Sopra il pantaloncino. Brava. No. Ultimo tentativo. Dai. Dai, Erika. Vai, 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 vai. Brava. No, mi dispiace, non ce l'hai fatta. Camilla. Camilla. Sì, sì. Uno. Bravissima. Secondo tentativo. peccato se dovessi riuscirci ancora ritorni giù e poi provi a ritornare su ok quindi tu dai 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 brava uno per Camilla bravissima applauso Irene se uno prova bravissima risali si certo fortissima due due sei a due puoi andare avanti certo bravissima allora respiri e poi facciamo dopo gli altri due tentativi va bene intanto sei a due chi va Martina top uno no Marti uno per Marti bravissima Alessia brava quasi uno bravissima bravissima brava lascia il bacino lì bravo bravo un operale bravissima letizia 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 un tentativo bravissima 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 uno uno bravissima bravissima indietro ok puoi farne di fila se vuoi beccato uno per Leti lo facciamo dopo così prendi respiri Emma quasi magari spingi un po' più avanti il tappeto in modo che magari non arrivi ok secondo tentativo dai Emma di là ai piedi Emma di là di là di là di là di là di là brava dai 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 no ma lì non devi aspettare terzo tentativo non devi fare di scatto brava Emma fa niente allora tocca in mira poi finiscono le altre due volte Irene Letizia poi e Martina vai Emma bravissima uno uno bravissima due vediamo se ce la fa farne tre no va bene va bene due Irene secondo tentativo vai subito è pronta un'altra bravissima bravissima quattro eri due prima no non avevi fatti due prima è certo che sommiamo due più due sei a quattro giusto ok cinque sei ragazzi sei sei sette bravissima 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 Marti sei a due tu uno due peccato due bravissima letizia subito su tu hai fatto due tentativi te manca uno quanto sei quanto eri a uno dai vediamo due due tre 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 quattro quattro brava Leti chi va allora Emina quanto sei due Irene sei vai sette ok sei a sette e Leti Quattro quattro tre Emma tre per Emma hai finito i tre tentativi tu te ne manca uno Irene terzo tentativo ok sei a sette otto nove dieci perire Emina terzo tentativo ah no Marti vai sei tre tre quattro cinque 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 per Marti Emina vediamo se riesce a arrivare a dieci quanto sei tre vai quattro quattro per Emma vince questa sfida Irene speriamo che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tanti like e ricordatevi di attivare la campanella per restare sempre aggiornati su tutti i nostri nuovi ciao 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 Grazie a tutti